Ciao a tutti. Oggi vediamo quanto costa estinguere un prestito Compass anticipatamente e quali sono le implicazioni. L'estinzione anticipata significa che paghi tutto il prestito prima della scadenza. Ma ci sono alcuni costi da considerare. Devi pagare il capitale residuo, cioè la somma che rimane del prestito, più ghili interessi maturati fino alla data di estinzione. Compass può richiedere un compenso per l'estinzione anticipata, normalmente pari all'1% del capitale residuo. Potrebbero esserci spese come quelle di istruttoria e apertura pratica non coperte, oltre a oneri fiscali come l'imposta di bollo. Esempio? Hai un prestito di 10.000 euro, con un capitale residuo di 5.000 euro. Pagherai 5.000 euro più ghili interessi maturati e 50 euro di compenso. Ricorda di leggere il contratto e valutare i costi.